Mario Monicelli nella vita come nella morte è stato un maestro in tutti i sensi e anche un maestro di libertà con questo atto con questo ultimo atto ha voluto affermare il diritto che ha ogni persona di decidere per sé quando vuole liberamente e coscientemente l'eutanasia visto che questo stato non non riesce a fare una legge che sancisca questo libero diritto delle persone di morire quando decidono coscientemente e liberamente di morire e in questo caso ovviamente nella situazione in cui era Monicelli 95 anni tumore alla prostata eccetera ha deciso che non voleva nessun tipo di accanimento terapeutico e ha deciso liberamente e coscientemente di farla finita con un grande atto di coraggio e di libertà ci ha dato un'ultima lezione di libertà e di coraggio grazie Mario non ti dimenticheremo mai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.